Le api vivono sul nostro pianeta già da molto prima dell'uomo. Se si osservano dei fossili pietrificati, salta gli occhi che da più di 40 milioni di anni sono praticamente rimasti identici. In pratica si sono perfettamente adattati alla vita qui. Mentre la struttura delle api è rimasta quasi uguale, in 40 milioni di anni hanno costruito il loro know-how. Il know-how su come si alimenta un intero popolo in maniera perfetta, con tutti gli aminoacidi, oligoelementi e le altre sostanze vitali. E le api ci riescono anche sui terreni più poveri. Per questo gli esseri umani hanno sempre allevato delle api in queste zone povere. Senza il miele e il polline sarebbero quasi morti di fame. Infatti, insieme al miele, il polline è un alimento perfetto con il quale l'apicoltore in queste regioni si può alimentare completamente. Da più di 40 milioni di anni le api raccolgono dalle piante in fiore questa fonte unica di energia, qual è il polline. Purtroppo in Svizzera con il polline raccolgono anche altra polvere, che magari provenne dall'autostrada. Piombo, antidetonante, furigine, polveri sottili. Non c'è da meravigliarsi quindi se tante persone reagiscono al polline delle api pur non essendo allergici alle api. Le api di Forever vivono lontano dalle industrie in aree solitarie della Spagna, dove accanto ai mandorli crescono anche molte leguminose, cioè labiate come trifoglio ed erba medica, ricca di elementi nutritivi. E queste danno al miele, ma anche al bee pollen, un proprio gusto inconfondibile. Forever è oggi uno dei più grandi apicoltori non associati del mondo, poiché i prodotti delle api si completano perfettamente con l'aloe vera. Il concentrato di energia bee pollen, articolo numero 26, è particolarmente efficace se di sera avete bisogno di una piccola spinta per un incontro importante, ma magari è già troppo tardi per la nostra bevanda energetica fab. Quando faccio dei lunghi viaggi in autostrada, di notte sciolgo volentieri in bocca un bee pollen. E il mio segreto consiglio è sciogliere in bocca una bee pollen insieme a una Royal Gelie, articolo numero 36. È ancora più buono. Ricapitoliamo i vantaggi di Bee Pollen di Forever, articolo numero 26. Un perfetto prodotto alimentare con 40 milioni di anni di know-how delle api. Eccellente completamento all'aloe vera. Proviene da aree isolate della Spagna ed è quindi praticamente incontaminata. Attenzione però, ci sono persone che ciò nonostante reagiscono in maniera fortemente allergica ai prodotti delle api. Può essere molto pericoloso. In genere queste persone ne sono già a conoscenza. Per sicurezza però informatevi e se avete anche il minimo dubbio provatene solo un quarto di una compressa. Vi auguriamo buon divertimento con questo prodotto alimentare straordinario che si può utilizzare in maniera molteplice. Grazie. 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 Grazie.